L'audit famiglia e lavoro è un certificato, è un processo di conciliazione e di far vedere che coloro che si impegnano in questo tema della conciliazione sia di famiglia e lavoro nel tema dei bambini, ma in futuro soprattutto anche nel tema della cura saranno quelli che in un mercato del lavoro che cercano tanti collaboratori, collaboratrici, qualificati saranno coloro che faranno un po' meno fatica ma soprattutto avranno anche un output migliore quindi per noi è sempre una bella occasione di dare un grande ringraziamento e visibilità a queste imprese. L'iniziativa Audit Famiglia e Lavoro è un'iniziativa molto positiva ed è un'iniziativa che porta vantaggi sia all'azienda, sia ai dipendenti, sia al datore di lavoro. Per questo spero che tante aziende vanno con il confine che li limita fino adesso di non provare questo audit. Tante aziende già applicano una serie di iniziative di questo tipo però non si sono fatti certificare. Credo che è il momento di fare il passo nella direzione giusta. Per noi era un audit di prova proprio per verificare come eravamo messi perché questa tematica noi in ditta l'abbiamo sempre vissuta. E poi era molto bello anche vedere che in effetti dovevamo solo spostare alcune viti piccole per poi ricevere il certificato.